cosa vuol dire draconiano da dove deriva se qualcuno volesse trovare un sinonimo di rigido eccessivamente severo può utilizzare il termine draconiano draconiano vuol dire essere molto severi molto rigidi da dove deriva questo termine da dracone dracone chi era un legislatore greco autore del primo codice penale punisce i suoi cittadini per ciò che non è permesso per legge l'omicidio trova per la prima volta una sua pena una sua condanna per quanto a volte i suoi concittadini lo accusano di essere eccessivamente rigido e severo dracone per la prima volta distingue fra l'omicidio volontario e involontario fra chi progettando costruendo un'abitazione causa la morte dei suoi abitanti quindi fa un omicidio involontario e chi uccide volontariamente un'altra persona grazie alle sue leggi per la prima volta si fermano le faide occhio per occhio dente per se uccido una persona probabilmente i suoi familiari tenteranno di uccidermi di vendicarsi dracone è il primo autore di un codice penale draconiano è sinonimo di rigido norma draconiana è una norma molto rigida molto severa